Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV in questo giorno festivo, oggi primo novembre, giorno appunto di ogni santi. Allora appena trascorsa quella che insomma secondo una tradizione che viene dall'America ma sposata davvero in tanti paesi del mondo, tra i quali l'Italia è appunto la notte di Halloween, c'era davvero tanta attenzione sul fronte soprattutto del consumo di alcol perché appunto erano molte le feste private e poi ovviamente c'erano anche i locali aperti. Sentiamo allora come è andata. Secondo me per i giovani Halloween è più una festa di svago diciamo in sé, quindi non è portata dall'abuso, è più dal divertimento in sé, il divertimento puro. Questo 31 ottobre era iniziato ad Arezzo con l'intervento della polizia municipale nell'area del Colle del Pionta dove in orario scolastico nove tra ragazzi e ragazze tutti minorenni stavano consumando bevande alcoliche e superalcoliche acquistate presumibilmente ma le indagini sono in corso in un supermercato. Un problema quello dell'abuso di alcol fin da una giovanissima età che si ripropone ogni fine settimana. Ragazzi se qualcuno beve un bicchierino in più come si fa dopo per tornare a casa? Beh ci si affida o a chi è rimasto sobrio o comunque si aspetta che passi l'effetto di solito. Voi vedete i vostri compagni insomma ragazzi della vostra età che bevono qualcosina in più? Sì purtroppo sì, ora io personalmente non bevo però quando succede il mio consiglio è o di aspettare che passi l'effetto o comunque di affidarsi a qualcuno che invece si è controverso. L'attenzione durante la notte di Halloween è stata alta da parte delle forze dell'ordine e non solo. Nelle feste private ovviamente i controlli non sono possibili ma nei locali sì. Noi ne abbiamo visitato uno in cui i gestori si sono affidati all'associazione dog operatori di strada per effettuare dei pretest alcolemici. Ormai dura da diversi anni e quindi tutte le serate di giovani loro sono sempre presenti a darci manforte. Per dire una strada come questa noi abbiamo visto che comunque c'è una buona affluenza, però ci sono tanti giovani, detto da nostri collaboratori, giovani che stanno intorno con noi, diciamo i cosiddetti PR. Comunque stasera per esempio ci sono tante situazioni di feste private perché? Perché chiaramente hanno detto a chiare note che non dando da bere ai giovani preferiscono non venire e trovare situazioni diverse. Questo è un po' il problema, ma non perché non vengono in discoteca, a noi ci basta la gente che viene. Però è un fenomeno e qui non dico della colpa ai genitori, molte volte è detto una cosa giusta, si vede la discoteca come una cosa brutta. In realtà oggi non è più la discoteca di vent'anni fa, c'è molta più severità, c'è molta più di strettezza, c'è molti più controlli ed è giusto. Quindi la discoteca è diventata un luogo, non dico il più sicuro, ma molto più sicuro che stare per le strade. Alla fine ci sono stati alcuni accessi ai pronto soccorso dell'Arettino per abuso di alcol e tre incidenti stradali senza gravi conseguenze per lo stesso motivo. E proprio durante la notte in cui appunto si celebra la morte o perlomeno lo si fa anche in maniera indubbiamente ironica, un bimbo invece è venuto alla luce. Nella notte in cui tutto il mondo celebrava la morte e il mondo delle tenebre, nell'Arettino invece è venuta alla luce una nuova vita in un modo certo piuttosto singolare e a causa del quale i medici stanno ancora monitorando le condizioni di salute di mamma e nascituro. Un bimbo è nato praticamente lungo la strada. L'allarme ai sanitari dell'emergenza a urgenza è arrivata alle 4 del mattino da Badia Prataglia, comune dell'Alto Casentino che dista oltre 50 chilometri dal più vicino ospedale. La chiamata è per un parto precipitoso alla 37esima settimana. Durante il viaggio verso il pronto soccorso è stata attivata, fanno sapere dall'ASL, la centrale operativa, sempre in collegamento telefonico con i sanitari intervenuti. Valutata la situazione, i professionisti dell'ASL presenti sul posto hanno ritenuto opportuno far fermare l'auto e sempre via telefono hanno seguito e assistito la donna per il parto. È stata quindi attivata un'automedica del Casentino e un'ambulanza della pubblica assistenza di Corsalone. La madre e il neonato sono stati quindi trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Sicurezza e controllo dunque del traffico sono queste le priorità in questi due giorni in cui migliaia di aretini si stanno muovendo da una parte all'altra delle vallate per rendere omaggio ai loro cari defunti. Oggi giorno di ogni santi e soprattutto domani 2 novembre giorno appunto dei morti. Dalla giornata di ieri il flusso di visitatori complici anche la giornata comunque di pioggia non sarebbe stato particolarmente intenso. È comunque attivo nei pressi del cimitero monumentale di Arezzo il servizio proprio della Polizia Municipale per dirigere il traffico sia in entrata che in uscita. Abbiamo disposto servizi già da un paio di giorni spiega il comandante Aldo Poponcini proprio per evitare che il traffico vada in tilt fino appunto alle scorse ore. È andato tutto bene resta però la raccomandazione soprattutto alla prudenza sul fronte dei furti nei parcheggi appunto dei cimiteri. Attenzione dunque a non lasciare borse e oggetti di valore proprio nell'abitacolo delle automobili. Ancora una parentesi che riguarda il ponte di ogni santi ma questa volta sul fronte del turismo che è andato indubbiamente bene ma dicono gli esperti il picco sarà a Natale già a cominciare dal ponte dell'Immacolata. Con un mese di settembre che ha sfiorato il 90% dei posti letti occupati nell'Aretino con un più 11% dallo scorso anno e un ottobre comunque con dati molto buoni, il turismo ad Arezzo si appresta ad andare in overbooking nel periodo natalizio. Con un mese di anticipo per il ponte dell'8 dicembre giorno dell'Immacolata e primo grande ponte festivo di questo inverno i posti letto nel circuito hotel dell'Aretino sono già occupati oltre il 75%. Ottime le previsioni anche per novembre. Il ponte dell'Immacolata, quello dell'8 dicembre, abbiamo già ad oggi sul venduto, quindi sul confermato, un tasso di occupazione che va dal 75% al 90%, il che significa che, essendo un mese prima, si può facilmente stimare di arrivare probabilmente a un overbooking e quindi a spargere prenotazioni nel giro di 40 km. Ma va comunque benino anche in tutti gli altri fine settimana da novembre in poi. Da non dimenticare che a novembre c'è anche il Forum Risk che è un appuntamento estremamente importante e quindi tutta quella settimana lì sarà contrassegnata dal tutto esaurito. Un tasso di occupazione particolarmente elevato, rilevato proprio nelle città d'arte e tra queste appunto Arezzo. Una città che comunque si sta abituando piano piano a questo tipo di flussi turistici. Rimane il tarlo della mancanza, ad esempio, dei bagni pubblici. Sì, il problema dei bagni pubblici, almeno per come è percepito nella gravità del problema, è solo Aretino. In realtà io ho girato molte parti del mondo e i bagni sono sempre andato negli ristoranti, negli airbag, nelle stazioni. Ad Arezzo i bagni pubblici ci sono. Certo non si può fare un bagno per ogni turista. Quindi sì, è chiaro che poi è evidente che là dove ci sono dei momenti di picchi di folla, il bagno ci può essere la fila. Però io non la metterei così drammatica come viene rappresentata. Mi sembra che ci sia una narrazione leggermente esagerata sul tema. Sicuramente quando sono previste tante persone che si espostano in un determinato territorio, peraltro non enorme, è chiaro che parcheggi, viabilità, ritiro dei rifiuti, bisogna capire tutto quello che sono le necessità di un folto numero di persone che si aggirano alla fine in un quadranto abbastanza ristretto che è quello del centro storico di Arezzo. Il numero di persone non è tale da poter lanciare nessun tipo di allarme, anche perché comunque si tratta di picchi che sono per pochissimi giorni l'anno. Quindi sono per pochissimi giorni l'anno, quindi speriamo che vada tutto bene. Poi tutto il perfettibile, ovviamente come tutte le azioni umane, sono tutte perfettibili e possono essere aumentate. Cambiamo argomento e parliamo invece di quella che viene definita povertà sanitaria, coloro che appunto non si possono permettere un controllo sanitario accurato, ma anche ad esempio l'acquisto di un farmaco. Per questo c'è uno sportello apposito messo a disposizione dalla Caritas. Sono 260 le visite mediche effettuate nel 2022, 91 le persone registrate che hanno richiesto questo tipo di assistenza. Sono i numeri dello sportello ambulatoriale gestito dalla Caritas e inseriti nel rapporto inermi sulla povertà, un servizio storico ma poco conosciuto e valorizzato. Coloro che vi accedono principalmente hanno tra i 40 e i 49 anni, sono uomini, stranieri e in condizioni di povertà sanitaria. Grazie alla collaborazione di medici e infermieri volontari, il servizio viene puntualmente erogato in convenzione con l'azienda sanitaria ed è dedicato in particolare alle persone non iscritte al sistema sanitario nazionale. Grazie alla collaborazione con il Banco Farmaceutico, il servizio offre anche sostegno per la distribuzione di farmaci da banco a indigenti. I mesi dell'anno con le maggiori presenze sono stati quelli autunnali. Le 91 persone registrate hanno effettuato 260 visite mediche, 38 specialistiche e ricevuto 286 farmaci. Siamo alla politica per la prima volta nella storia del Partito Democratico Aretino. La guida sarà al femminile Barbara Croci, l'ex assessore di Anghiari, dove è segretaria del PD, ha superato l'altro candidato, Michele Ausilio, chiudendo la fase congressuale con un'ampia maggioranza. Manca l'ufficialità che arriverà durante il congresso, messo in calendario per il prossimo 18 novembre. Ma Barbara Croci, esponente della cosiddetta Ala Schlein del partito, ha superato l'avversario con oltre il 60% delle preferenze. Credo sia il segnale di come i temi della segreteria nazionale siano poi gli stessi a livello locale, ha detto al quotidiano La Nazione. Dobbiamo andare oltre le logiche, il PD deve tornare a parlare in maniera chiara. Torniamo a parlare del crollo del controsoffitto in un'aula del professionale Marconi a San Giovanni Valdarno, sono passati ormai due mesi e una soluzione definitiva ancora non c'è. Oggi intervengono i genitori con una lettera. Dopo quasi due mesi dal crollo del 5 settembre 2023, la provincia non ha ancora espresso un parere ufficiale sulla convenzione richiesta, né tantomeno ha ufficializzato la data di inizio ai lavori per il ripristino del plesso Marconi. Sono 1.580 gli studenti e 2.972 i genitori che dopo il crollo del controsoffitto in aula del professionale valdarnese oggi chiedono risposte certe e definitive. Lo fanno con una lettera inviata alle redazioni nella quale non nascondono la rabbia per il fatto che ancora appunto le risposte non ci siano. Tra gli studenti in difficoltà per questa situazione, sottolineano i genitori, 71 studenti che si avvalgono della legge 104, quindi con bisogni speciali. Il 5 ottobre l'incontro presso l'ufficio del dirigente scolastico che vede presenti preside, consiglieri e architetti della provincia oltre al sindaco di San Giovanni Valdarno. Ci hanno lasciato senza risposte certe, scrivono ancora, circa i tempi di ripristino dei locali e senza soluzioni definitive per tutte le 17 classi ancora da collocare. Due mesi sono un tempo più che sufficiente per organizzarsi e prospettare soluzioni concrete ad una comunità informata e consapevole che crede nel futuro dei propri giovani e che, chiosano i genitori, non ha alcun interesse a schierarsi politicamente. A pochi giorni dal convegno ospitato ad Arezzo sulla nascita e lo sviluppo della multi-utility toscana, ha preso piede l'ipotesi che Francesco Macri, presidente di Estra e membro del CDA di Leonardo, possa prendere anche la carica di presidente di questa nuova realtà. Gli ambiti nei quali ci muoviamo, aveva detto il sindaco proprio durante il convegno, sono quelli dell'acqua, del gas e dei rifiuti. Dobbiamo evitare che il ritorno economico dell'investitore privato ricada sui cittadini con tariffe aggressive. Estra, di fatto, è già controllata da Alia Multi-Utiliti Toscana, secondo il patto siglato nei mesi scorsi con i soci, tra i quali Coingas. Un passaggio che ha portato proprio un pezzo importante di Arezzo già dentro al nuovo soggetto, anche se formalmente il comune di Arezzo ancora deve aderire. Ancora una cucciolata di cani abbandonata. Il servizio di Chiara Sadotti. Il gesto che purtroppo si ripete a volte. Questi cani sono stati abbandonati fuori. Erano molto piccoli oltretutto. Erano stati trovati dentro uno scatolone abbandonati poco dopo la nascita. Adesso questi quattro cuccioli sono pronti per essere adottati. La cosa bella è stata che questi cani, un pastore, si è offerto, ci ha detto che aveva delle femmine in allattamento e abbiamo fatto la prova di attaccarli a queste mamme cagne, a queste balie cagne. Sono così cresciuti e ora sono arrivati in canile, svezzati quindi naturalmente da una mamma cane e sono adottabili. Vedete, in Italia, sono medio-grande. Non è il cane d'appartamento, ha bisogno di passeggiate, di stare fuori e possono essere anche ottimi cani da guardia. Attende ancora una famiglia, anche Negan, Meticcio, Border Collie, arrivato in canile dopo aver affrontato momenti difficili. I suoi ultimi proprietari avevano dovuto rinunciare a lui e il cane aveva così perso la fiducia negli esseri umani. Sarà veramente molto chiuso. Anche nelle sgambate usciva solo per fare la pipì e si ripiazzava davanti alla porta per rientrare in box. Dopo un percorso in canile a fianco di educatori e volontari, adesso per lui si cerca un'adozione consapevole. Perché comunque sia un cane con delle caratteristiche particolari, un carattere forte, un guardiano, quindi non è proprio un cane per tutti. Però loro sono riusciti a dedicargli tanto tempo, lui si è aperto e è diventato bravo. È stata presentata la scorsa domenica a Monte San Zavino la stagione teatrale che andrà in scena al Teatro Verdi nel comune della Valdichiana tra i protagonisti Ghemon, Dario Vergassola, Marco Marzocca e Ottavia Piccolo. La serata inaugurale è prevista per mercoledì 22 novembre alle 21.15 con Non è un concerto portato in scena proprio da Ghemon, scritto con l'aiuto di Carmine Del Grosso con Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. Con il prossimo servizio andiamo invece al circolo artistico. Vi raccontiamo una bella mostra. È un andare a ricercare il nostro passato, i nostri antenati, i nostri istinti primordiali che ci servono a ritrovare la nostra parte più autentica. Una magica fusione di colori, forme e simboli. La bellezza discreta del latavismo immostra al circolo artistico di Arezzo una personale del regista e pittore Klemk. Klemens Kiefenheim in arte Klemms è un artista veramente interessante. Lui è un regista che all'attivo 78 film ha collaborato con i più grandi registi del mondo, ma poi negli ultimi anni ha sentito questa urgenza, esigenza di riprendere la pittura che lui aveva coltivato da giovane ma che poi aveva parte tenuto ferma per portare avanti invece il percorso di regista. Ma la cosa bella della sua arte è che tutto quel background da regista ritorna nella pittura, nelle sue tele. Le opere vengono create utilizzando una complessa e originale tecnica di ingrandimento. Come nel cinemascope si usava anche nei western fare dei primi piani, stringere il campo sul soggetto e inquadrare dei particolari così anche questi quadri che noi vediamo sono come dei primi piani cinematografici che poi vengono ristretti in un campo ancora più ristretto dei particolari e questi particolari poi vengono amplificati negli altri quadri. Sarà sempre il circolo artistico ad ospitare un evento speciale, una collaterale alla mostra dal titolo La pittura incontra la musica, in programma domenica 5 novembre. Con noi del trio Opera Viva, con me al pianoforte, Silvia Martinelli, soprano e Fabio Taruschio al flauto che presenteremo un bel programma fra musica da camera e anche musical e l'artista Clemens Keiffenheim che eseguirà delle performance e dei dipinti dal vivo sul momento ispirandosi dalla nostra musica. Il comune di Foiano della Chiana si prepara all'edizione 2023 del Foiano Book Festival che è appunto arrivato alla sua quinta edizione, il primo evento in programma per il prossimo 3 di novembre con Neri Marco Re è già tutto esaurito. L'attore marchigiano, artista poliedrico che negli anni ha attraversato il teatro, la tv, il cinema e la musica sarà appunto protagonista dell'apertura del festival alle 19 nella sala Furio del Furia con uno spettacolo speciale di parole e musica. Da sabato 4 novembre poi si inizia a raccontare libri e letteratura con un intenso programma che appunto partirà nel prossimo sabato nel comune della Valdichiana. E torna ad Arezzo anche la fiera del disco, del fumetto e del collezionismo all'Arezzo Fiere e Congressi in calendario per il prossimo 11 e 12 novembre. L'associazione culturale Fumetti e Dintorni torna appunto con la terza edizione della fiera che ha indubbiamente avuto un grande successo. Arezzo vanta tra l'altro tra i più famosi disegnatori di case editrici blasonate come la Bonelli, Tex e Zagor, avendo una cultura storica per quanto riguarda il fumetto. Nei padiglioni infatti del centro affari sarà presente anche Fabio Civitelli che presenterà il suo ultimo lavoro in prossima uscita e durante il pomeriggio di domenica incontrerà il pubblico anche con altri illustri colleghi come Rossano Rossi, Fabio Valdambrini, Carlo Monni. Ed infine chiudiamo con una notizia di sport. Anna Battistini della ginnastica Petrarca è campionessa interregionale di ritmica. L'atleta retina ha trionfato alla palla e ha centrato i pass per le finali dei campionati italiani di specialità. Dopo aver vinto il titolo toscano appunto con la palla ha gareggiato nella zona tecnica di Foligno nella categoria Junior 3 e ha eseguito un ottimo esercizio che è l'Evazzo, il primo posto con il conseguente accesso alla ristretta cerchia di ginnaste che potranno contendersi il tricolore ai campionati italiani di specialità in programma da giovedì 16 a domenica 19 novembre a Campobasso. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese e attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.